La pace del nostro Signore Gesù Cristo Oggi faccio questo video perché stamattina, poco prima di svegliarmi, il Signore mi ha dato un sogno e volevo condividerlo con voi perché comunque non è solo un sogno ma è anche un avviso, ok? Allora, io stamattina, poco prima di svegliarmi, ho sognato che ero in una scuola e sembrava che volevo iscrivermi a questa scuola e ricordo che ero nel segretariato e parlavo con il direttore ero molto contenta anche di iscrivermi a questa scuola, ci volevo andare volentieri ed ero lì appunto per chiedere informazioni o addirittura anche per iscrivermi ricordo che dopo aver parlato con il direttore, io stavo in piedi davanti alla sua scrivania e lui ha iniziato a darmi dei documenti, dei fogli da compilare per l'iscrizione ricordo che mi ha dato il primo foglio in mano e mi ha detto cosa fosse poi mi ha dato il secondo in mano e mi ha detto cosa fosse poi mi ha dato il terzo foglio in mano e mi ha detto questo lo devi compilare perché la tua... aspettate un attimo, devo cercarmi le parole per fare la traduzione giusta perché questo sogno era in tedesco insomma mi ha detto che il terzo formulario che mi stava dando in mano mi ha detto che era un formulario con la quale io accettavo l'islam una specie di formulario che ribadisse la mia accettanza dell'islam come se io questo formulario lo dovessi... cioè non come lo dovevo compilare per potermi iscrivere a questa scuola ricordo che quando mi stava dando questo foglio lui aveva il foglio in mano e me lo stava dando e nel mentre mi ha detto cos'era il foglio mi ha detto questo è appunto quello che ho appena detto il mio sostentamento per l'islam praticamente che io l'avrei dovuto sostenere se mi iscrivevo a quella scuola mentre mi stava dando questo foglio e mi diceva queste cose io il foglio non l'ho preso in mano lui me lo stava dando ma io non l'ho preso ricordo di avergli detto no questo foglio può risparmiarsi anche di darmelo non me lo dia neanche in mano perché io non lo firmerò mai e poi mai non convertirò mai all'islam mai e poi mai lo ribarivo a più volte mai e poi mai preferisco morire che convertire all'islam preferisco farmi tagliare la testa che convertire all'islam questo gliel'ho ripetuto 10-15 volte davanti a lui mentre lui ancora teneva questo foglio in mano e ricordo che nel segretariato c'era il direttore appunto il signor Cosuomo che mi stava dando questi fogli e poi c'erano due segretarie e una di queste segretarie aveva un fazzoletto in testa quindi era una musulmana e questo era il sogno che ho fatto purtroppo poi mi ha squilato il telefono in casa e quindi mi sono svegliata il telefono mi ha svegliato però questo è il sogno che ho fatto prima di mettermi a registrare ho chiesto al Signore se questo sogno fosse mandato da Lui insomma cosa fare con questo sogno ho aperto la Bibbia il Signore mi ha mandato Atti degli Apostoli capitolo 26 di questo capitolo mi ha fatto vedere dal verso 12 in poi che è il ritorno di Paolo a Gesù Cristo ok? in questo capitolo si parla appunto di Paolo che si è convertito a Cristo dopo che stava perseguitando i cristiani e mentre andava a Damasco sulla strada per Damasco gli è apparso Gesù Cristo e gli ha chiesto perché mi perseguiti e Paolo gli ha chiesto chi sei? io non ti perseguito e Gesù gli ha detto io sono Gesù tu mi stai perseguitando adesso però alzati vai e porta la mia buona notizia questo è ciò che ha detto a Gesù Paolo perché mi ha dato questo capitolo della Bibbia il Signore stamattina quando ho chiesto conferma perché se andiamo a vedere i musulmani sono un po' come Paolo ok? loro ci perseguitano adesso io abito in Germania e sto vedendo parecchie cose che non vanno bene c'è una guerra comunque che sta avendo inizio adesso qui in Germania tra musulmani e tutto il resto quindi i cristiani e tutto il resto anche la popolazione qui è divisa in due ci sono quelli che quelli che sono contro l'Islam perché dicono appunto che l'Islam non appartiene all'Europa non è una cosa europea questo è un continente cristiano l'Europa lo è sempre stato e appunto la popolazione è divisa in due ci sono quelli che l'accettano che dicono che è una parte della nostra cultura ormai e ci sono gli altri che completamente lo rifiutano perché sanno che siamo in un continente cristiano e che non è una religione che appartiene a noi non è una cosa che appartiene a noi e quindi penso proprio che il Signore mi abbia dato questo sogno mi abbia dato questa parte della Bibbia come conferma proprio paragonando i musulmani a Paolo che adesso ci ci perseguitano che però secondo la volontà di Dio dovrebbero convertirsi rinascere di nuovo e quindi vivere con Gesù Cristo e per Gesù Cristo quindi questo sogno non era soltanto un avviso che molto probabilmente ciò che io ho visto nel sogno ok è una cosa che probabilmente succederà anche che saremo costretti a firmare un foglio dove dove appunto diciamo che che accettiamo l'Islam che non abbiamo niente contro l'Islam che che quasi quasi ci sottomettiamo all'Islam ok questo probabilmente succederà perché per come sono messe adesso le cose questa situazione sta scalando sempre di più anche qui in Germania ci sono un sacco di manifestazioni e appunto questi sono i segni degli ultimi tempi non mi meraviglierebbe se in un paio d'anni o forse anche prima vengono appunto distribuiti questi formulari dove 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 siamo costretti a firmare cioè a sottometterci praticamente all'Islam ok e appunto Gesù cioè questo sogno che ho fatto io io nel sogno stavo reagendo come un qualsiasi cristiano rinato dovrebbe reagire cioè non non rinnegare Gesù Cristo nemmeno se si sta davanti alla morte nemmeno se arriva un musulmano e ci vuole tagliare la testa perché rinneghiamo l'Islam no bisogna sempre stare fedeli a Gesù Cristo è uguale cosa succede come già ha detto ha detto Gesù non dobbiamo temere coloro che che affliggono il nostro corpo insomma coloro che ci possono uccidere ma dobbiamo temere colui solo colui che può gettare la nostra anima all'inferno che è Dio ok quindi niente paura anche se tutte queste cose succederanno perché non è il primo avviso che il Signore mi sta dando riguardo all'Islam anche se queste cose succederanno o quando succederanno chi è veramente con Gesù non ha bisogno di avere nessuna paura perché lui ci protegge state fedeli a Gesù fino alla morte lui sarà fedele a voi perché sta scritto anche che chi si vergogna della parola di Gesù chi si vergogna di Gesù di quelle persone si vergognerà anche Gesù davanti al Padre ok e sì appunto questo è tutto quello che volevo dirvi insomma è un po' un avviso questo sogno non solo per noi cristiani ma anche un avviso e una chiamata a tutti i musulmani di tornare indietro di smetterla di perseguitare i cristiani perché chiunque perseguita un cristiano sta perseguitando Gesù Cristo stesso lo vediamo appunto nei versi della Bibbia che il Signore mi ha dato come conferma Atti degli Apostoli capitolo 26 dal verso 12 in poi ok vi prego ragazzi anche naturalmente non dovete credere nulla di quello che dico io andate dal Signore chiedete conferma al Signore sono sicura che chi chiede con sincerità e con umiltà riceverà le risposte di cui ha bisogno bussate e vi sarà aperto io vi auguro tutto il bene del mondo auguro a tutti a tutti coloro che hanno già trovato Gesù che sono ordinati dello Spirito auguro la forza e la gioia anche nel cuore per poter portare a termine questa corsa ed essere alla fine finalmente con Gesù in cielo felici per tutta l'eternità e a tutti gli altri che ancora non sono con Gesù inclusi i musulmani ok ma non sono solo i musulmani che rifiutano Gesù tutti quelli che rifiutano Gesù adesso vi prego tornate a Dio chiamate il nome di Gesù per essere salvati perché è l'unica cosa che vi salva smettetela di perseguitare i cristiani e uguale che siete uguale a quale religione apparteniate a quale etnia apparteniate smettetela di perseguitare i cristiani perché in ogni cristiano c'è anche Gesù e se voi perseguitate i cristiani state perseguitando Gesù che è Dio ok a cui dovrete rendere conto il giorno che finite di vivere qui la vostra vita sulla terra perché tutti ci ritroveremo davanti a Lui Lui è il Re e il Giudice è giusto e tutti dovremo rendere conto a Lui vi lascio una benedizione ancora nel grande nome di Gesù Cristo che il nome sopra ogni altro nome è l'unico nome ma è dato all'umanità attraverso la quale possiamo essere salvati ciao ragazzi alla prossima Amen Grazie a tutti Grazie per la visione!